Il Launchpool è lo strumento per farmare token su Binance, ovvero, detto in parole più normali, lo strumento per ottenere gratuitamente dei nuovi token che stanno per essere listati su Binance a fronte di un deposito di BNB o stablecoin. Ultimamente le performance dei Launchpool sono state decisamente ottime e per questo tanti di voi mi hanno chiesto una guida dettagliata, quindi eccoci qua. Oggi vediamo tutto quello che devi sapere sui Launchpool, cosa sono, come funzionano, come partecipare, quali sono i rischi e quanto si guadagna. A quest'ultimo proposito ho anche preparato una tabella che mostra quanto avresti guadagnato allocando a titolo di esempio 1, 10 o 100 BNB sugli ultimi Launchpool. Quindi seguitemi e andiamo a scoprire tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere sui Binance Launchpool. E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. A grande richiesta tornano le nostre guide, i nostri tutorial, stavolta con uno su uno o meglio degli strumenti, dei temi più caldi del momento, ovvero il Binance Launchpool. A grande richiesta perché presumo che siate decisamente in FOMO, viste le performance degli ultimi, non mi avete mai chiesto, credo così tanto, in poco tempo una guida dedicata a un argomento specifico. Detto questo, oggi lo affrontiamo in modo panoramico e dettagliato dalla A alla Z. Quindi alla fine di questo video saprete tutto, sarete laureati in Binance Launchpool. Partiamo subito con, anzi prima di partire scusate vi chiedo di lasciare un bel like se vi piacciono sempre queste guide pratiche che appunto volte a spiegare il funzionamento delle features, delle piattaforme, delle cose più di interesse vostro di ogni momento, di ogni periodo e mi raccomando iscrivetevi al canale se ne volete vedere altre perché ovviamente ne arriveranno altre sempre su vostra richiesta. Mi raccomando, a tal proposito, i feedback lasciatemeli sempre così so che cos'è di vostro interesse. Riguardo questo argomento, a proposito di feedback, voi fatemi sapere, per curiosità, avete partecipato ai Launchpool passati oppure no? Insomma, per quale motivo? Ditemi un po' come vi siete trovati. Bene, iniziamo subito col capire che cos'è il Binance Launchpool. Come vi ho accennato nell'intro è un metodo per farmare, si dice in gergo, nuovi token e in questo caso si tratta di token che stanno per essere listati su Binance e sono spesso e volentieri protocolli o comunque token, piattaforme e quant'altro in cui Binance stesso ha una forma di investimento ed è questo che li rende poi particolarmente interessanti. soprattutto considerando il fatto che non c'è da acquistarli, sapete che io sono il primo a cui non piace acquistare token nuovi e tendenzialmente non lo faccio mai proprio perché è un'operazione estremamente rischiosa e puramente speculativa ma in questo caso appunto essendo a costo zero, li si farma e poi alla peggio se non li si può addirittura vendere anche al giorno 1 per Bitcoin o per stablecoin se si vuole escludere completamente la volatilità di quel token oppure si può decidere di tenerli lì e dire bene, alla peggio, tanto li ho tenuti gratuitamente anche se vanno a zero mi interessa fino a un certo punto ma posso fare appunto la scommessa perché di fatto è una scommessa che essendoci dietro anche in qualche modo Binance questi token possano performare bene in futuro la cosa importante è che comunque io non ho avuto un costo di carico ecco di questi token e questo è anche ciò che li rende appunto particolarmente interessanti il fatto che non c'è bisogno di comprarli come si fa, come funziona questa procedura di farming ve lo spiego subito la prima cosa necessaria è un account su Binance per ovvi motivi perché il Launchpool è un prodotto per l'appunto di Binance se non avete un account io vi lascio il mio referral link in descrizione se lo utilizzate avrete uno sconto a vita del 20% sulle commissioni di trading su Binance nonché 100 dollari di bonus che vi pagano fondamentalmente le prime commissioni quindi i primi 100 dollari di fee sono gratuiti e da quei 100 in poi poi avrete il 20% di sconto per sempre ovviamente anch'io riceverò una piccola parte delle vostre commissioni di trading ed è un modo per voi di supportare il mio lavoro ovviamente per voi senza alcun ricarico e alcun costo anzi ci sono dei bonus diciamo per entrambi è un win-win una volta che avete l'account su Binance come vedete qua in alto nel menu piccola parentesi questo per ovvi motivi non sarà un tutorial dell'exchange Binance se volete un tutorial dalla A alla Z di Binance ve lo lascio in descrizione l'avevo già fatto tempo fa è molto lungo preparatevi perché è una piattaforma decisamente complessa Binance ma ovviamente proprio per questo serve una guida oggi andiamo direttamente a parlare del Launchpool quindi il menu qua in alto vedete altro e qua abbiamo Launchpad e Launchpool Launchpad e Launchpool sono due cose differenti il Launchpad è sempre il lancio di nuovi token ma nel Launchpad solitamente o funziona a lotteria del tipo che tu allochi una quantità di stablecoin o BNB e se hai fortuna vieni estratto oppure anche in questo caso in base all'allocazione che tu dai puoi ricevere una quantità di token ma poi li devi comprare in qualche modo mentre con il Launchpool tu non devi spendere nulla l'unica cosa che devi fare è allocare vedete BNB o FDUSD che è una stablecoin pegata al dollaro nel pool in questione all'interno del tempo della finestra di farming in questo caso vedete Portal è l'ultimo progetto del Launchpool attualmente in corso termina mercoledì 28 se non ricordo male 28 sera 28 notte quindi c'è anche tutto mercoledì per farmare e il farming dura 7 giorni come vedete qui ci sono anche un po' di dati utili nello specifico ci sono 50 milioni di token in questo caso dedicati al Launchpool i quali verranno suddivisi in parte nel pool FDUSD e in parte nel pool BNB andiamo a vedere come perché in realtà i due pool non rendono allo stesso modo rende di più tendenzialmente il pool BNB infatti se noi andiamo a vedere nel pool BNB sono allocati 40 milioni di token mentre nel pool FDUSD soltanto 10 milioni quindi quelli del pool BNB sono 4 volte tanto l'80% dei token è sul pool BNB mentre il 20% restante è sul pool FDUSD questo per quale motivo? beh per una scelta interna di Binance presumo per generare domanda sulla loro coin BNB e questo ovviamente include ne parleremo anche dopo dei rischi chiaramente il rischio di partecipare al pool BNB è che si è esposti su BNB quindi BNB sapete bene che può salire o scendere mentre FDUSD è una stable coin e in quanto tale è esclusa dal rischio volatilità e quindi forse anche questo è incorporato nel fatto che c'è un'allocazione maggiore sul pool BNB anche per giustificare il rischio dovuto all'esposizione proprio alla coin BNB quanto si guadagna? allora visto che stiamo parlando un po' di numeri andiamo a vedere i numeri a disposizione allora in realtà vedete le ricompense vengono erogate ogni ora se voi mettete in staking adesso dopo vi faccio vedere come si fa il procedimento che è veramente semplice ma una volta allocati i vostri BNB o FDUSD al pool vedete qua c'è la vostra disponibilità voi potete decidere di farlo e una volta fatto qua vi compare il vostro totale e riceverete fondamentalmente ogni ora una percentuale delle ricompense orarie che è proporzionale a che cosa? al numero di BNB che avete messo in staking voi facciamo proprio un esempio guardate faccio metto 7,5 BNB li mettiamo in staking tanto si possono poi togliere in qualsiasi momento non ci sono vincoli allora in questo momento io ho 7,5 BNB allocati al lounge pool quindi cosa succede? succede che allo scadere dell'ora io riceverò 7,5 diviso 16 milioni e mezzo che è la mia quota la mia fettina moltiplicato per 23.809 quindi di fatto si va a calcolare banalmente la quota dei miei BNB rispetto al totale in staking quella lì sarà la quota dei token che spettano a me e io li riceverò alla fine dell'ora quindi si può anche fare un calcolo banalmente stimare quanti token riceverete in base conoscendo come dati i BNB totali in staking e i BNB vostri l'unica incognita al momento qual è l'unica incognita? il prezzo del token portal che non essendo ancora listato non si sa ancora fino al momento ovviamente in cui colpisce il mercato entra nel mercato in realtà vi do una buona notizia ci sono degli strumenti che aiutano in questo perché quotano su un mercato secondario i token in pre-market quindi possiamo farci un'idea del prezzo che avrà il token in questione e quindi anche addirittura calcolare in anticipo quanto potremmo guadagnare questi strumenti si chiamano whales market che non c'entra nulla con Binance è una piattaforma che vi mostra i prezzi appunto dei token in pre-market proprio da una stima e qua vedete che troviamo anche portal possiamo addirittura andare a deselezionare o selezionare solo portal ecco così ci facciamo un'idea e vedete che al momento sono venduti sul mercato secondario sui tra i 2,1 dollari e i 3,5 dollari per token il mio consiglio è di stare sul basso sul più basso che trovate per avere una stima più conservativa e più sensata il volume totale vedete è di 3 milioni di dollari quindi c'è volume di scambio e pertanto sono stime che spesso e volentieri ecco in passato ci hanno beccato abbastanza per questo ve lo sto dicendo chiaramente non sono precise al millimetro sappiate che sono stime pre-market quindi non precise al millimetro ma che spesso sono assolutamente sensate quindi noi sappiamo che un token può costare facciamo 2,1 dollari e sappiamo quindi quanti token ogni ora otterremo con questi dati moltiplicati per 2,1 dollari otteniamo il rendimento che la mia quantità di BNB mi dà in questo launch pool ok? Quindi capite bene che si può anche stimare bene quanto ci si guadagna oltre a Wales Market c'è anche Aevo si chiama e che giusto per completezza ve lo dico che è sempre uno strumento che va a quotare i token in pre-market e qua addirittura non è un over the counter quindi una compravendita di pacchetti di token diretta come questa ma è un mercato libero tuttavia non ci sono tutti vedete ad esempio qua c'è solo Blast e SHFL che non saprei cos'è ma non c'è ad esempio Portal quindi purtroppo in questo caso non ci interessa mentre vedete nei pre-launch mentre su Wales Market di solito si trova abbastanza tutto ciò che sta per essere lanciato e così ve lo dico proprio per completezza lo stesso vale per il pool FDUSD ma vedete essendoci meno ricompense orarie e essendoci spesso anche più capitale in staking in questo caso abbiamo due miliardi e mezzo ovviamente la quota a meno che non si sia delle balene di FDUSD la quota solitamente è minore quella su BNB è decisamente più alta per darvi un'idea sul passato un'idea estremamente concreta pesando proprio questi parametri ho creato una tabellina guardate di quanto si avrebbe guadagnato partecipando ai vecchi launch pool ho preso i dati da CoinMarketCap con un'allocazione di esempio di 1, 10 e 100 BNB così per dare un'idea e ho preso come prezzo di vendita immaginando di dampare il token in questione ai suoi massimi dal lancio ad adesso quindi chiaramente prima abbiamo fatto un discorso abbiamo detto lo si dampa e lo si può decidere di dampare un po' alla volta non so un 5% al giorno tutto al lancio lì è una decisione ovviamente personale ognuno decida quello che preferisce oppure di tenere la cosiddetta Moonbag così che se in futuro un progetto dovesse fare 10x, 20x chiaramente diventa una scommessa né più né meno non lo chiamo investimento diventa una scommessa ma comunque a costo di carico zero la cosa interessante è quella comunque per avere dei dati alla mano ipotizzando di aver venduto ai massimi fino ad ora che cosa avremmo realizzato? allora con un BNB vedete partecipando a quanti sono? gli ultimi 14 lounge pool avremmo ottenuto 142 dollari circa un BNB attualmente ne costa cos'è? 200 e qualcosa mi pare e comunque nel tempo è variato prima costava molto meno quindi bisognerebbe anche soppesare con quello ma il profitto ecco in dollari è questo considerando l'allocazione di un BNB 10 BNB viene moltiplicata per 10 e 100 BNB viene moltiplicata per 100 il calcolo è fatto in questo modo e qua c'è anche il calcolo di per ogni progetto dollari guadagnati su BNB allocati e vedete che alcuni ovviamente tipo 6 che sta spingendo veramente parecchio è quello che ha pesato di più addirittura 34 dollari su un BNB di allocazione altri sono stati più cioè meno interessanti come ad esempio Pendle che si vede che c'era una partecipazione più ampia c'era meno token disponibili perché poi dipende anche da quello però ha reso meno per il momento poi ripeto se dovesse fare 100 per in futuro solo Dio lo sa questo però si può anche scommettere su quello ripeto a costo zero questa tabellina così ve la lascio qua giusto a titolo così random ma per avere qualche dato in più più concreto e farsi un po' un'idea è un po' come avere cioè in parte rende BNB un asset in qualche modo produttivo perché ti permette di farmare questi token con BNB e quindi genera domanda ovviamente per la coin BNB che penso sia lo scopo di Binance e in secondo luogo ti permette appunto di allocare su token scommessa senza avere un costo di carico questo è un po' il discorso del launch pool il senso del launch pool se così vogliamo dire come si fa a partecipare? terza parte allora per partecipare ai launch pool in realtà ve l'ho fatto già vedere si va su altro launchpad e launch pool si va a selezionare il launch pool in questione ad esempio portal in questo caso vedete qui BNB ce l'abbiamo qua mi sta per maturare penso alla ricompensa vedo che brilla tutto e ce l'abbiamo qua e ci clicchiamo sopra e andiamo a selezionare vedete qua c'era metti in staking e qua te li prende dal saldo spot quindi vanno avuti sul wallet spot si decide quanti metterne e li si mette qua vedete vengono maturate ogni ora appunto adesso mi ha dato ben 0,0090 portal ogni quando si vuole insomma si può andare a richiedere le ricompense quindi si fa il claim tac richiedi ricompense e i portal vanno a finire sul nostro conto spot vedete e così poi quando viene listato lo possiamo dampare oppure lo possiamo tenere se ci interessa tenerlo e lo stesso vale per FDUSD nota bene i BNB o FDUSD messi in staking non sono vincolati come vedete io li posso riscattare in qualsiasi momento tac e li riottengo immediatamente senza dover rinunciare alle mie ricompense già ottenute rinuncio ovviamente alle ricompense future cioè nel momento in cui li riscatto non farmo più però appunto non perdo quello che ho già farmato non è l'unico modo in realtà perché anche utilizzando Binance Earn se avete BNB su Binance Earn ad esempio vedete tac qua dice anche ricompense Launchpool infatti vedete i BNB sottoscritti nei prodotti Earn sono idonei per le ricompense Launchpool quindi se voi avete i BNB su Simple Earn o BNB Vault di fatto ottenete il vostro APR del BNB Earn e in più le ricompense del Launchpool quindi se per esempio io voglio fare l'iscrizione vedete qua c'è la in questo caso c'è il tempo di vincolo io devo scegliere un tempo di vincolo che va a influenzare l'APR quindi qua attenzione che a differenza dell'allocazione sul semplice Launchpool c'è il vincolo temporale per cui vi vengono bloccati qua i BNB si va a sottoscrivere e nel momento in cui confermiamo abbiamo appunto i BNB bloccati ricordatevelo per questa tempistica all'interno di Earn ma nel mentre maturiamo l'APR scritto qua e inoltre le ricompense del Launchpool e quindi questo è tutto lì mentre il BNB Volt è la versione di Earn senza nessun tipo di vincolo che rende ovviamente molto meno perché non c'è vincolo e in più rende lo stesso le ricompense di Launchpool questo è un po' il funzionamento veniamo infine ai rischi quali sono i rischi della partecipazione al Launchpool di Binance? allora i rischi sono di due tipologie il primo è il rischio volatilità di BNB nel caso in cui si decide di partecipare allocando appunto dei BNB come abbiamo detto BNB è volatile può salire, può scendere quindi se sale ovviamente siamo doppiamente contenti ma se scende può mangiare ovviamente i profitti che abbiamo fatto farmando all'interno del Launchpool quindi è un'eventualità è un rischio da tenere sicuramente in considerazione sicuramente se si è già investito in BNB cioè se nella nostra asset allocation c'è BNB ovviamente ha senso quando ci sono i Launchpool utilizzarlo per i Launchpool anche perché è come fosse una sorta di dividendo per BNB fa parte dell'attesi di investimento presumo avere delle rendite date anche dai Launchpool se uno decide ovviamente di investire in BNB e vede appunto del potenziale futuro in esso e quindi ecco questo è il primo punto interrogativo da porsi voglio espormi a BNB oppure no? il secondo rischio ovviamente è il rischio di controparte di Binance nel senso per partecipare ai Launchpool si deve depositare fondi su Binance e quindi come vale per tutti gli exchange per tutti i custodian per tutto ciò che ha centralizzato nel malaugurato caso in cui dovesse esserci una banca rotta una situazione spiacevole di quel tipo i fondi non sono assicurati in nessun modo quindi si chiama proprio rischio di controparte che prevede appunto un rischio su quanto depositato nei casi estremi appunto di situazioni sgradevoli per la controparte coinvolta e detto questo direi che abbiamo visto tutto perché veramente abbiamo sviscerato il Launchpool che di per sé è una cosa estremamente semplice dall'A alla Z andando a vedere anche come stimare quanto si può ottenere e quant'altro quindi se avete altre domande ovviamente voi non esitate a farle nei commenti io vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi faccio un carissimo saluto e alla prossima